Ok ragazzi, ultimo video della serie, cosa assumere dopo l'allenamento. Quindi cerchiamo anche in questo caso di capire quelle che sono le nostre esigenze, partiamo da là e troviamo la soluzione. Allora, dopo che ci siamo allenati abbiamo dato una bella botta, abbiamo ancora in corpo comunque una glicemia stabile, perché abbiamo sosteggiato il nostro intra-workout durante tutto l'allenamento e da un punto di vista di sistema nervoso autonomo siamo in orto simpatico. Cosa vuol dire questo? Che il nostro sistema è sul fight or fly, quindi corri o combatti, per cui siamo ancora abbastanza adrenalinici, c'è una forte produzione ormonale in questo senso, il cortisolo è verosimilmente alto anche se tamponato a parte dei carboidrati, però comunque siamo in questa situazione qua. In questa situazione in cui, come abbiamo detto più volte, i processi di digestione e di recupero sono ancora efficiati, motivo per il quale si è visto che la proteosintesi non ha effettivamente avvio, se non dopo una mezz'oretta, 20 minuti dopo l'allenamento. Quindi il tempo necessario per fare questo shift, diciamo, è il parasimpatico. Quindi la prima nostra preoccupazione dopo che ci siamo allenati non è quella di mangiare subito qualcosa, perché come abbiamo detto la glicemia è ancora stabile, quanto piuttosto quella di favorire questo passaggio, ossia questo shift del sistema del post autonomo dall'orto simpatico al parasimpatico, uno stato calmo in cui il cortisolo è più basso, ma soprattutto i processi di sovracompensazione, di digestione, di assimilazione di nutrienti sono massimizzati. Quindi per far questo la prima cosa che faccio è innanzitutto non mangio nell'immediato post-workout, ma vado ad assumere degli integratori che favoriscono tutto questo processo, quindi in particolare il dimenzin, ossia con l'esame, la metionina di cui ho già parlato nella recensione e l'ashwagandha, che hanno un forte effetto di riduzione del cortisolo. Quindi questi due integratori assumere subito dopo l'allenamento e normalmente quello che faccio è o fare una camminata blanda sul tappeto oppure torno a casa con calma, le faccio una doccia, mi rilasso e poi dopo mangio. Quindi questo più o meno come concept. Questo basta semplicemente una mezz'oretta, non serve che mangiate 5 ore dopo, basta quella mezz'oretta per favorire questo passaggio. Ora, a questo punto, nel momento in cui è passata questa mezz'oretta, la glicemia verosimilmente si è abbassata perché nel frattempo il muscolo sta giucciando tutto il glucosio per ripristinare le scorte di glicogeno, i GLUT4, cioè i recettori, sono membrana, sono là, affamati, prolificano. Quindi da questo punto di vista, sicuramente di nuovo la prima necessità è quella di favorire un ripristino delle scorte. Ora, come ho detto, la particolarità del post-workout è che questi recettori sono molto attivi. Per questo si dice che il distretto muscolare in realtà non è un distretto insulino dipendente, ma in un certo senso è anche insulino indipendente. Ossia non ha bisogno necessariamente di una produzione insulinica, se vogliamo importante, per andare a ripristinare le sue scorte, ma in seguito all'attività fisica, i GLUT4 emergono, quindi i processi di stoccaggio del glicogeno muscolare sono in parte insulino indipendenti. Quindi questo che cosa vuol dire in soldoni? Che se vado a mangiare anche tanti carboidrati in post-workout, l'insulina non verrà a aumentare, cioè il pancreas non andrà a segregare il top a insulina. E questo è sicuramente un aspetto positivo, perché un eccesso di carboidrati nel post-workout non porta danni a livello di sensibilità insulina così tanti, così come un eccesso di carboidrati in un altro punto della giornata. Per questo il mio consiglio è quello di concentrare il grosso dei carboidrati che vi servono in generale nella giornata proprio nel post-workout. Per cui quella mezz'ora la inizio a consigliare un quantitativo di circa 2-3 grammi di carboidrati nel post-workout. Quindi se andate a mangiare e pesate 75 kg, allora 150 fino anche a 220 grammi di carboidrati possono essere assunti nel post-workout. Ovviamente per soggetti che hanno metabolismo molto veloci si può arrivare anche a 220 e superare. Vedete tutto quanto con le pinze non è che vi sto dicendo di mangiare tre atti di riso nel post-workout, però di modulare tutto quanto in funzione del vostro input glucidico. Idealmente nella peri-workout nutrition dovrebbe essere nel circa il 50-70% di quello giornaliero. Quindi, richieste di carboidrati. Quali carboidrati? Sempre il discorso di prima. Dei carboidrati sicuramente di rapida assimilazione, di digestione, non mi importa dello spike insulinico perché, come detto, i glucidrati stanno là, quindi quello che mangio verosimilmente arriva nel torrente ematico e viene schiaffato direttamente nei muscoli. E c'ho anche scazza di possibilità che venga schiaffato nel tessuto riposo. Quindi sicuramente se abbondo un pochetto e utilizzo delle fonti di facile digestione è un'ottima soluzione. Quindi tutte le varianti del riso, potete inserire delle patate senza buccia per non ricciare troppo con le fibre, potete inserire anche invece la di mais, mi ci trovo molto bene, mi scusso, mi ci trovo molto bene, insomma delle fonti che digerite molto bene. Ora, a questo punto l'altra richiesta è di nuovo quella strutturale. Di nuovo, stesso discorso, proteine, potete inserire sempre 20-30 grammi, se avete un input proteico tendenzialmente alto potete anche arrivare a un po' di più, quindi da questo punto di vista anche se i processi di assimilazione sono un po' più rallentati, nel post-workout, insomma, siamo passati nel parasimpatico, quindi in realtà la digestione è molto molto efficiente di per sé. Quindi una fonte proteica verosimilmente magna perché nel post-workout e passiamo all'ultimo nutriente, i grassi dovrebbero essere tenuti bassi proprio perché voglio che il grosso del mio apporto calorico derivi dai carboidrati, ossia se ho un tot di calorie da mettere nel post-workout io voglio che quante più possibili derivano da materia energetica e materia strutturale, ma è semplicemente per il fatto che è quello che il mio muscolo va a richiedere. Quindi senza farci troppe preoccupazioni di variazioni ormonali, di input giornalieri, eccetera, ragionate su quello di cui il muscolo ha bisogno. E dopo l'allenamento si parla di richiesta energetica e strutturale, carboidrati e proteine. Quindi questo è sostanzialmente, non servono a mio avviso ulteriori finezze, unica cosa anche qua, salate abbastanza il tasto nel post-workout, senza problemi, logicamente non esagerare i 10 grammi di sale, però a quel minimo per favorire questa assimilazione, massimizzazione dell'assimilazione dei carboidrati durante l'allenamento. Ricordate, l'avrete notato in questa serie, il sale non è un nemico per il bodybuilder, ma deve essere equilibrato ad un ottimo apporto idrico con gli altri elettroliti, però assolutamente non riducetelo ed anzi, da un certo punto di vista è anche favorevole perché svolge delle funzioni molto importanti sia in termini di minerale stesso, sia in termini di carriere, di assimilazione di altri nutrienti. Quindi questo è tutto, scrivete qua sotto tutte le domande che vi vengono sul post-workout, qualsiasi dubbio, qualsiasi osservazione o domanda che sarò ben lieto di rispondere. Vi ricordo come al solito che potete trovare tutti i miei stack a livello di integrazione nelle mie storie di Instagram e seguiteci su Instagram che siamo particolarmente attivi e detto questo ci vediamo al prossimo video.